Presentata anche quest'anno la disfida dei trombonieri, tante novità, ascoltiamo gli organizzatori. Presidente Antonio Luciano, presentata anche quest'anno la disfida dei trombonieri, un grande appuntamento per Cava dei Tirreni, ormai è una tradizione? È una tradizione, l'anno c'è di migliorare, di mettergli errori del passato, di perfezionare la cosa nel limite possibile. La manifestazione grande è gestita dagli uomini, non siamo attori come ho sempre detto, siamo persone che tutto ciò che facciamo lo facciamo con il cuore, con tanti sacrifici e con tante prove. Il lungo discorso e il lungo percorso che sta vivendo l'associazione trombonieri è quello di dare visibilità agli eventi e quest'anno abbiamo una grossissima unità per Cava dei Tirreni, di questo ne sono entusiasta e felice. Grazie all'ecreggio lavoro che ho avuto dal nostro rappresentante e presidente Camila Di Noffi, quest'anno la disfida dei trombonieri, della divulgazione storica e il corteo del sabato 4 luglio, abbiamo avuto l'onore di avere i patrocini del Parlamento europeo. Sia con una letra quindi i patrocini abbiamo avuto anche la taiga del Presidente del Parlamento europeo che un'apposita commissione stabilirà a chi donarla. Sicuramente non sarà donato un gruppo vincitore della disfida ma una realtà a parte però vicino agli eventi cittadini, quindi questa commissione avrà un grosso lavoro da fare per dare la giusta importanza a questo grosso obiettivo che ha raggiunto l'associazione trombonieri per Cava dei Tirreni. Quest'anno ricalchiamo la campagna di comunicazione ideata già l'anno scorso ma con importanti novità. In effetti l'oggetto della comunicazione sarà proprio la pergamena in bianco in quanto rappresenta la storia cavese e quindi sarà proprio la pergamena ad essere l'oggetto di comunicazione. Ci saranno una serie di interventi itineranti sul territorio salernitano cavese ma anche in costiera amalfitana e la pergamena sarà proprio donata ai passanti nelle piazze. Tutti i passanti potranno scrivere un proprio desiderio sulla pergamena e partecipare ad un concorso. Questo concorso sarà seguito anche online, quindi sul sito dell'ATSC, dell'associazione, e tutti i partecipanti potranno vincere dei posti VIP, in tribuna VIP, alla disfida e alla rievocazione e saranno premiati durante le due manifestazioni anche con una pubblicazione che parla della storia di Cava dei Tirreni. Carmina Di Nolfi, anche quest'anno la disfida dei trombonieri diventa un appuntamento molto importante per la città di Cava dei Tirreni, un appuntamento che può attirare flussi di turisti. È un programma che parte da lontano questo. La nostra scommessa era quella di portare nel tempo questa manifestazione a un grosso livello, ci stiamo riuscendo, ma portare anche il turismo nel nostro territorio. Abbiamo pensato di fare delle proposte turistiche, quindi abbiamo avuto il coinvolgimento dell'inertà turistica del nostro territorio, le quali siamo stati molto sensibili a darci delle buone offerte e quindi a poter essere competitivi sul mercato turistico. Grazie a tutti.